Dopo il TG, il film Colossal Avatar e da domani torna Paolo Borolis con il pressima tra poco su Canale 5. Arriva Avatar, il film di James Cameron che è il maggior successo di incassi di tutti i tempi, con quasi 3 miliardi di dollari. Un colossal di fantascienza che ha cambiato la storia del cinema, realizzato in uno spettacolare 3D, vincitore di tre Oscar. Si svolge nel futuro sul pianeta Pandora, abitato dal popolo dei Navi. Un ex marine viene inviato in missione per colonizzare il pianeta, ma si innamora della principessa guerriera e si schiera dalla parte degli indigeni. Tutti gli attori, da Sam Worthington a Sigurday Weaver a Zoe Saldana, sono trasformati in personaggi digitali con effetti speciali rivoluzionari. Quindi tutto questo tra poco su Canale 5 e prima c'è il meteo. Grazie per l'attenzione e buonasera.